Ciao a tutti, mi chiamo Paola Sordancini, ho 19 anni, vengo da Lino, ho appena finito gli studi al liceo linguistico, presso il liceo Serenio di Lino e ho scritto il racconto e dai un taglio alla paura. Io scrivo fin da quando ero bambina, scrivere mi piace molto e credo che la scrittura sia uno svago, un'arma ma anche un ancora di salvataggio. Spero che il mio racconto vi piaccia e ci vediamo ad ottobre.